Ho solamente fatto la mia parte, ma dimmi ti piace la musica, Ivy? Penso di sì. Vedi, io sono musicista, se così si può dire, sto per dare uno spettacolo quanto mai speciale. Che genere di musicista? Gli strumenti a percussione sono la mia specialità, ma stasera inviterò tutta l'orchestra per questo evento particolare e sarei onorato se tu volessi accompagnarmi. Ah no, non credo, è meglio che torni a casa. Ti prometto che sarà uno spettacolo mai visto prima e che dopo tornerai a casa sana e sala. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!